Torniamo in Italia, nuovo blitz contro i militanti di estrema destra in Piemonte. Ancora fucili, pistole, materiale di propaganda fascista ritrovati a casa di un ex militante di forza nuova già indagato. A lavoro anche l'FBI. Marzia De Giuli. Si allarga l'arsenale, si allarga l'inchiesta intorno a un solo uomo in possesso di armi da guerra ad alto potenziale offensivo pronte all'uso. Fabio Del Bergiolo, ex doganiere di Gallarate, è al centro dell'indagine della Digos di Torino nata dalle intercettazioni fra ex combattenti della guerra del Donbass in Ucraina. C'erano un fucile automatico e molto altro nella casa secondaria Massa Carrara del Sessantenne, candidato alle elezioni per forza nuova nel 2001, già arrestato giorni fa insieme ad altre due persone. C'è diverso materiale, anche sempre ineggiante al nazismo, diversi video, tutte collezioni complete su Hitler e quindi questo conferma anche una sua particolare ideologia oltransista. L'inchiesta si tinge così sempre più di mistero dopo il recente ritrovamento di un'altra serie di armi da guerra a casa di Del Bergiolo a Gallarate e di un missile terra-aria in provincia di Pavia. Si è parlato per voce del suo avvocato di un collezionista, è un'ipotesi plausibile? Questa è l'unica ipotesi che mi sento tranquillamente di escludere. Per quale motivo? Ma per il modo soverandi, l'azionale ha un grosso potenziale offensivo e le armi che ne fanno parte sono complete di munizionamento. Collaborano all'inchiesta tramite Interpol le forze dell'ordine dei paesi di fabbricazione e anche le FBI.